Il contributo dell'ottimizzazione dei trasporti merci per la qualità dell'aria nel bacino padano. Il trasporto di cortoraggio in Emilia-Romagna. L'approfondimento condotto nell'ambito del progetto PREPARE è stato finalizzato all'individuazione di strategie di ottimizzazione per il trasporto merci e la logistica extraurbana di medio e cortoraggio, ovvero entro i 50-100 km. L'approfondimento ha indagato come le imprese manifatturiere, in particolare quelle della meccanica, gestiscono i trasporti di ingresso, dove i frequenti interscambi B2B lungo le catene di fornitura della regione Emilia-Romagna contribuiscono ad accrescere i traffici merci sulle brevi distanze. A causa della grande frammentarietà dei punti di presa e consegna dispersi su tutto il territorio regionale, questo problema assume un particolare rilievo nelle aree periferiche della regione, le quali non dispongono di un assetto infrastrutturale in grado di assorbire un numero elevato di mezzi pesanti. Questa analisi è particolarmente significativa, poiché i dati Istat del 2018 ci indicano che oltre 110 milioni di tonnellate di merce movimentate su strada, pari al 13% del dato nazionale, si muovono all'interno dell'Emilia-Romagna e circa il 60% di questi ha sia origine che destinazione all'interno della regione stessa, pari a 67,7 milioni di tonnellate. L'inventario delle emissioni arpae del 2015, pubblicato nel 2019, segnala che il trasporto su strada, oltre che il riscaldamento domestico a biomassa, è la fonte principale di emissioni legate all'inquinamento diretto da polveri. Il trasporto su strada contribuisce per il 58% alle emissioni di ossidi d'azoto, che sono importanti precursori della formazione di particolato e di ozono, per il 26% all'emissione di PM10, per il 48% all'emissione di monossido di carbonio. Per quanto riguarda le emissioni climaalteranti, le emissioni di CO2 sono imputabili per il 34% al trasporto su strada. Rispetto alla situazione attuale, l'adozione a larga scala di nuovi modelli organizzativi e operativi per la gestione dei trasporti di corto raggio rappresenterebbero, a livello di autotrasporto, nuove opportunità di mercato, mentre, a livello di sistema, nuove opportunità di razionalizzazione della risorsa trasporto. Una tecnica per l'ottimizzazione del trasporto di corto raggio è il milk run. Nello specifico, la strategia prevede una gestione della logistica di ritiro-consegna delle materie prime presso i fornitori localizzati su rotte predefinite all'interno di specifici cluster e basata su una tempistica prestabilita, combinando nello stesso viaggio dedicato diverse prese e consegne, ottimizzando la saturazione dei mezzi e riducendo i costi del trasporto, ma garantendo sempre la puntualità della consegna alla produzione. L'organizzazione dei trasporti attraverso il milk run ha una serie di variabili che ne determinano una molteplicità di configurazioni. La figura riporta una strategia di milk run differenziata per frequenza e distanza geografica dall'azienda di produzione. I principali benefici indotti dall'introduzione di tecniche milk run riguardano la razionalizzazione dei flussi e della gestione operativa, la riduzione dei costi di trasporto, l'aumento della flessibilità della supply chain, la diminuzione dei costi di magazzino e la riduzione dell'impatto ambientale esercitato dal sistema di approvvigionamento. Dagli studi di caso realizzati da Fondazione ITL, con l'implementazione di un sistema di approvvigionamento che affianca logica milk run ad un sistema di approvvigionamento non ottimizzato, le percorrenze complessive possono essere ridotte del 46% e si può ottenere un grado di saturazione complessivo dei mezzi del 67%. L'indice di riempimento del solo milk run tocca il 75% e quello relativo al trasporto non ottimizzato il 56%. Benefici significativi si registrano inoltre sui costi complessivi del trasporto, con una riduzione del 48% rispetto allo stadio non gestito, e sulle emissioni complessive con una riduzione della CO2 di circa il 40%. Il settore della logistica in Emilia-Romagna conta 10.058 società di capitali in conto terzi e 8.740 imprese di autotrasportatori. Il fatturato della Contrat Logistic del 2018 in Emilia-Romagna è di 12,4 miliardi di euro, di cui il 50% è realizzato dagli operatori dell'autotrasporto. L'ottimizzazione del trasporto di corto raggio passa attraverso l'integrazione di politiche di tipo urbanistico, ambientale e di sviluppo economico. È importante sostenere la transizione ecologica dei mezzi per le aziende di autotrasporto e il rinnovo tecnologico in grado di aiutarle nell'intercettare la domanda di servizi in tempo reale, ma attraverso la promozione di soluzioni economicamente e gestionalmente adeguate anche alle realtà artigiane.